La fiera antiquaria entro giugno o al massimo luglio torni tra le vie del centro storico di Arezzo e non vada in esilio al Prato. I consiglieri del Partito Democratico Donato Caporali e Andrea Gallorini hanno così presentato un'interrogazione al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e all'assessore Simone Chierici chiedendo che questo sia il futuro immediato della manifestazione ed accendendo un semaforo rosso dinanzi all'ipotesi Prato. La fiera, commentano i due consiglieri del PD, ha come sede naturale storica le vie del centro cittadino e questa presenza diffusa comporta un notevole beneficio economico e di presenza a tutta l'area interessata. La sede del Prato, che è stata individuata in tempo di emergenza e necessità, non può quindi diventare sede permanente dove ospitare i banchi della prestigiosa manifestazione. La scelta del Prato comprometterebbe il futuro della manifestazione. Richiuderla nel circuito del Prato per i prossimi mesi, concludono, significherebbe ridurre l'attrattività e potenzialità della manifestazione stessa a discapito degli espositori e delle attività economiche del centro storico.